Mancano un paio di settimane circa al Natale e si respira già un'aria di festa. Alberi di Natale, luci, si allestiscono i presepi, si decorano vetrine e abitazioni. Il periodo natalizio diventa anche un'occasione per progettare dei viaggi, approfittando dei giorni di festa. Ognuno sceglie la propria meta, come la montagna, o ancora c'è chi pianifica le proprie vacanze invernali alla ricerca di luoghi con temperature più calde e chi invece rimane a casa per festeggiare il Natale in famiglia. Quest'estate la cittadina nissena, secondo gli operatori del settore turistico, avrebbe registrato una buona presenza di turisti e si comincia a parlare dunque di previsioni sugli arrivi in città anche in concomitanza del periodo natalizio. Il dato in questo momento non certificato è assolutamente scomportante. Non abbiamo nessuna previsione di arrivi legati al periodo natalizio, se non quelli legati alla seconda e alla terza settimana del mese di dicembre. Il dato riferisce di un arrivo comunque legato al settore del turismo commerciale, del turismo business, niente di più rispetto all'ultima settimana del mese di dicembre. Certamente l'assenza di una proposta a riguardo da parte degli enti a ciò preposti forse ancora non riesce a determinare a trarre domande di tipo diverso. Questo è il dato che riusciamo a registrare in questo momento. La proposta è semplice, cercare di capire come la crescita forse anche eccessiva dell'offerta di ricettività alberghiera nel nostro territorio. I dati pubblicati dal Libero Consorzio Comunale qualche giorno fa dicono che nel nostro territorio ci sono circa 82 strutture fra il ricettivo tradizionale dell'alberghiero e dell'ex alberghiero, affittacamere e b&b. Forse necessita oggi di una messa a regia dell'offerta stessa, non solo dei posti letto, ma anche della capacità di attrattiva verso questo territorio. Mi pare che assolutamente questo in questo momento manchi, non c'è un'opportunità di confronto e di consultazione, quindi l'idea sarebbe quella ad esempio di una consulta del turismo. Ci sono alcuni strumenti normativi che prevedono la possibilità che tutti gli enti e gli attori del comparto si siedano al tavolo tecnico per discutere e programmare e mi pare che in questo momento non esista, non si registra questa opportunità. Allora forse bisognerebbe valutare che debba farsi qualcosa al riguardo.